Le cose da dottore. Ciao amici, come state? Oggi vi mostrerò tutte le cose da dottore. Per prima abbiamo questo passeggino che si mette dentro una persona, poi lo porti velocemente nella tua camera. Poi abbiamo questo. Questo è quello che metti via libera. Poi vediamo che cosa c'è in questa misteriosa scatola. Sono troppo amicciunati. Wow! Guarda cosa ho trovato. Questi due si mettono nelle orecchie. Poi ho questa parte. Questa parte si mette nel cuore per sentire come va. Vedi che c'è un segno del cuore e c'è anche questa bella etichetta. Poi vediamo che altro c'è in questa misteriosa scatola. Oh ma guardate! Abbiamo il fila libera di questo. Questo si mette qui. Via libera! Come vedete. Oh! Vediamo che cos'altro c'è in questa misteriosa scatola. C'è questo. Ci sono anche i suoi pezzi come vedete. Non c'è. Ecco! Questo si mette proprio qui. se riesco a ripararla. Non sono mica tanto forte. Aspettate piano. Vabbè! Però questa si mette così per mettere la medicina. vediamo se troviamo gli altri suoi pezzi. Guarda! Ne abbiamo appena trovato una! Che questo si allenta per io. Poi questo lo sapete già. Si fa con quello. Quello giallo che è l'ultimo che abbiamo detto. Poi vediamo che cos'altro è nella questa misteriosa scatola. che bello! Abbiamo appena trovato la luce. Guardate! Luce! Buio! E' molto carino. Poi vediamo che cos'altro c'è. Oh, guarda! Che bello! Ho appena trovato quello per la freddore. E guardate i numeri. Si muovono. Dicidi tu che numero è. Che carini questi oggetti. Poi vediamo che altro. Guardate! Ho trovato la medicina. Vedete? Si apre. E si chiude. Se volete potete anche metterci delle medicine vere e giocarci. Però non ingagliatele. Oppure morirete. Poi che altro c'è in questa misteriosa scatola? C'è il... Indovinate? C'è il... Il... Quando tu sei... Ti sei graffiato. Questo ti si mette. Voi lo ricordate? E' molto semplice. La mettiamo qui. Vediamo che altro c'è. Guardate! C'è la puntura. Vedete? C'è la puntura. Vedete? Ci sono anche i numerini. Ma piccole talie. C'è la puntura. C'è la puntura. Ti ho fatto l'avventura. La puntura. Ho trovata un'altra mini medicina. Che qui c'è scritto in bianco... Cabule. C'è scritto Cabule. Invece in quell'altra c'è scritto Tabiet. Uh, che altro. Poi vediamo che altro c'è. Oh, ma guardate! Che carini questi forbici! Sono forbici da dottoressa. È ovvio. Sono forbici da dottoressa. E sono molto, ma molto carini. Le mettiamo con le altre. Ma quante belle cose ci sono in questo gioco! Guardate! Io ho avuto un altro costume vecchio. Era di dottoressa. Ok. Poi vediamo che altro... Ops! Sono finiti! Comunque ci sono tante belle cose. Mettete mi piace e seguite le mie puntate. Ciao ciao!